di Robert McCammon me ne sono già occupato in passato perché perché è uno di quegli scrittori tipicamente anni 80 scrittore horror che veniva proposto frequentemente come un'alternativa un concorrente di Stephen King che già in quegli anni sta diventando un cult per gli appassionati della narratura dell'inquietudine del brivido dell'horror appunto Robert McCammon è sempre stato un ottimo artigiano con una buona perdonanza dello stile delle parole ma soprattutto con delle storie avvincenti che appagano il lettore che cerca intrattenimento fatto bene e io lo ribadisco sempre sapete quanto sono un appassionato e un sostenitore dell'intrattenimento anche sia literario cinematografico o tutto quello che volete insomma l'intrattenimento è una nobile arte lo dico sempre lo ribadisco anche oggi e oggi vi presento il suo primo libro libro d'esordio che è del 78 quando McCammon aveva 25 anni quindi considerate un autore molto giovane che arrivava alla grande editoria e da lì in poi la sua carriera sarebbe stata sulla lampa di lancio con diverse pubblicazioni anche molto vendute infatti è uno dei nomi ricorrenti quando si parla di una certa generazione di scrittori horror tipicamente 70 fine 70 80 e inizio 90 il libro d'esordio in questione è Baal che io ho in questa edizione Oscar Mondadori adesso non so l'anno la copertina è semplice ma io la trovo caruccia perché rispecchia del 91 del 91 sì questa edizione del 91 rispecchia la copertina la presenza che permea le pagine di questo libro che è il dio Baal il dio fenicio dio dei sacrifici della fertilità della sessualità della sessualità dio a cui venivano tributate orge appunto sacrifici umani e altre piacevolezze il libro lo dico subito richiama molto alle atmosfere di quei film che andavano di moda in quel periodo quindi considerate fine anni 70 inizio anni 80 film come l'esorcista e soprattutto The Homen il presagio a cui ho dedicato un lungo speciale via podcast che potete recuperare appunto su Spotify Spreaker sulle principali piattaforme di podcasting e Baal ricorda molto il presagio perché è la parabola la storia di questo bambino che nasce da una violenza sessuale finisce in un orfanotrofio e qui comincia a manifestare le sue capacità soprannaturali è il fatto che sembra essere la reincarnazione di questo antico dio fenicio Baal appunto che poi apro e chiudo parentesi nella concezione cristiana inquisitoria verrà perificato attorno all'anno 1000 a un demone un demone vero e proprio un demone delle corti infernali quindi sapete la demonologia che comprende duchi principi sovrani infernali ci sono tanti ottime letture ottimi per chi ama questo genere di enti di curiosità ci sono tante ottime letture in materia e Baal viene parificato a un sovrano infernale invece è originariamente un dio un dio fenicio e non è una distinzione da poco perché ricorre anche nelle riflessioni di chi darà la caccia a Baal in questo libro perché? perché appunto sull'arco di 30 anni di tempo vediamo questo bambino nascere manifestare i suoi primi poteri crescere in un orfanotrofio quindi lo ritroviamo 30 anni dopo come un potente uomo d'affari con un seguito religioso che si sviluppa soprattutto a Kuwait City dove viene chiamato il nuovo Maometto, il prescelto, il messia e con molte persone che si votano a lui nonostante lui non faccia nulla per nascondere quella che dice essere appunto la sua identità ovvero quella di essere un re di vivo dio che aveva come base del suo culto appunto il sacrificio umano, la violenza, l'isterismo religioso e tutte queste cose carinissime carinissime tuttavia appunto questo non vieta la gente di seguirlo anzi il suo seguito aumenta pericolosamente tanto che qualcuno comincia a preoccuparsi perché tipo a Kuwait City ci sono e in altre parti del Medio Oriente ci sono scene di isteria di massa che si ripetono più volte nel nome di Baal e a indagare su questa creatura, su questo essere umano che dice di essere un altro tipo di creatura una creatura ancestrale, antica, reincarnata nel corpo di un mortale ci sono dei personaggi tra cui spicca James Virga che è un teologo di 60 anni che è quello che più sembra comprendere la natura di Baal nonostante tutti i suoi dubbi tutte quelle cose che possono ostacolare una soluzione paranormale in un'epoca di relativismo e di scienza quindi gli anni fine 70-80 come vi ho detto però James Virga è un teologo e quindi è più propenso a credere che questa creatura questo uomo sia effettivamente l'incarnazione di un antico dio prettamente malvagio adesso non vi spoilero altro perché chiaramente la storia ve la potete leggere credo che Baal sia reperibile abbastanza facilmente nell'usato me lo credo o comunque in lingua originale ho letto delle critiche facendo la preparazione per questo video ho visto che molti lo considerano una storia un po' scontata può esserci del vero per chi conosce col senno di poi tutte le storie di reincarnazione del male e chi da loro la caccia può essere una storia scontata tuttavia consideriamo sempre la data in cui è uscita quindi 1978-81 la prima edizione internazionale quindi veramente molto tempo fa e non c'era questa gran diffusione di questo genere di storie perché ripeto era allora che si inaugurava un po' il filone chiamiamolo del presagio quindi un dio malvagio nel caso del presagio l'anticristo in questo caso Baal che prende forma e vita in un corpo mortale e poi certo il canovaccio l'abbiamo visto ripetersi molte volte nel cinema e nella letteratura horror però ai tempi era una novità quindi io stai ben attento a dire che si tratta di una trama ma non originale perché forse queste sono le trame originali e dopo sono venute le scopiazzature poi ho letto altre critiche che secondo me con rispetto parlando sono un po' risibili sull'eccessiva brevità del romanzo sono comunque 260 pagine in questa edizione quindi siamo lì sono 260, 250, 280 a seconda del formato, del carattere e tutto quanto io la trovo invece una storia perfetta ha un inizio, una fine non lascia spazio a sequel quindi ve lo potete godere come si faceva una volta ve lo potete leggere senza avere l'ansia di dover aspettare 8000 volumi per avere il compimento di un arco narrativo che tra l'altro qui, ripeto, copre questo romanzo copre la vita del giovane Baal dalla sua nascita all'età adulta in 260 pagine e McCammon riesce comunque a raccontarci tutto quello che è lecito a sapere senza andare troppo nei riempitivi nei filler che a volte sono veramente insopportabili e quindi anche questa critica io la trovo un po' risibile forse perché non amo più i super polpettoni le saghe infinite i romanzoni da mille pagine e io sono convinto che potrei bestemmiare in questo momento ma molti dei vecchi successi di King partendo da It, dall'ombra dello scorpione con un buon editing potrebbero essere tagliati di 300-350 pagine e risultare ancora più godibili quindi benvengano a mio parere i formati di romanzo fatto e finito sulle 200-300 pagine vi consiglio di leggerlo se amate questo genere di storie sì perché McCammon ripeto è un ottimo artigiano della parola se cercate qualcosa di estremamente originale con uno stile più moderno e brioso probabilmente no però anche qui considerate l'evoluzione dello stile dello scrivere horror che negli anni 80 era diverso da come si scrive oggi non dico che era migliore non dico che era peggiore ma era diverso anche il respiro narrativo i ritmi e tutto quanto secondo me avendolo riletto risulta una godibilissima storia inquietante che non risparmia scene brutali pur non abusando dello splatter come escamotage per stupire il lettore ma la violenza insita nel personaggio di Baal ci viene descritta senza problemi come era uso fare appunto in quegli anni quindi Baal Robert McCammon se trovo il link su Amazon non ho ancora guardato ve lo lascio altrimenti cercatelo nell'usato dovreste trovarlo per pochi euro come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale attivare la campanella se vi piace quello che faccio c'è il tasto super grazie per poter sostenere il canale le recensioni e quant'altro e niente io vi auguro al solito buone letture e ci rivediamo al prossimo video grazie a tutti